Allora Dory, ripetiamo tutto un'altra volta. La tua memoria perde colpi. Sì, non ricordo un fico. Lo so. Non ricordo un secco. Esatto. Un fico secco. Un fico secco. Allora, Dory, sono qui. Ascoltami. Dobbiamo chiedere indicazioni. Ah, indicazioni. Ma con gentilezza. Gentilezza. Perché i pesci in questa zona sono molto nervosi. Nervosi. D'accordo? Hai capito? Ahà. Sei sicura? Sì. Non ricordi più niente? No. Tutto vuoto qui dentro. Eh, va bene. Mi è venuta un'altra idea. Tu resti qui, nuoti in tondo, dimentichi per conto tuo. Io torno subito. Vado a chiedere indicazioni. Pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo. Scusate! Oh. Io e la mia amica dobbiamo arrivare alla corrente australiana orientale. Ah, sì. La C-A-O. Di qua. Di qua. È da quella parte. Quello che devi fare è che... Oh! Oh! Un'altra qui. Oh! 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 Che divertente! Oh! E loro scappano! Oh! Oh! Scusa, volevi farlo tu. C'è un pesce più grosso che mi vuole ingoiare? Mi offro volontario per l'amo. Oh! Oh! Ehi! Ho detto qualcosa che non va?